Ma lo ha detto lei, con quello che è accaduto in Europa, non si può scegliere un percorso di vita sicuro. Tanti uomini della mia età non sono tornati dalla guerra. E poi chi ci assicura che non ne scoppierà un'altra? Potrebbe succedere, madre. Potrebbe succedere. Dovrei essere davvero furiosa perché hai appena... hai appena usato le mie stesse parole contro di me. Come potrei contraddirti sapendo che sono mia? Joanna è stata molto cattiva, mi ha dato uno schiaffo! Joanna non si danno gli schiaffi, calmi. Forza, andate. Ma mi ha colpito in faccia! Brian, sono impegnata in una conversazione, aiuta tua sorella a prendere della legna, per favore. Vai! Vedetevela tra di voi! Madre, per favore. Non c'è dubbio che starò in piene a giorno e notte, con i miei due ragazzi nella giungla. Ma la paura non ha mai determinato il nostro futuro. Non ho altro da dire. Madre, grazie. Grazie.